Il rammarico più grande forse è stato quello di non poter raccontare ai miei figli che ho giocato contro Maradona. Sicuramente prendevo qualche tunnel, anzi più di qualche tunnel e mi dispiace. Oggi, ieri è morto, ma Diego non morirà mai, specialmente in questa città. Perché in questa città ho avuto la fortuna di guardarlo. Ho cambiato la storia del calcio italiano, perché per tantissimi anni il campionato si giocava sempre fra Milano e Torino. E lui, qua penso che è stato più di un calciatore. Era uno che diceva sempre robe sensate ed è stato l'orgoglio di questa città. Prima a Sky ho fatto una battuta, ma non è una battuta perché è un dato di fatta. Perché se fanno un sondaggio, penso che è più famoso fra San Gennaro e Diego Armando Maradona. Sicuramente il sondaggio lo vince Diego. E sicuramente, come ho detto già prima, ieri c'è molto da mancare. Ma rimarrà sempre vivo per quello che è stato, per quello che ha fatto. Perché è stato qualcosa di straordinario.